2 su 3, Teodosic Non fuori Orton, mano mancina Markovic, l'uscita di Teodosic che ha vantaggio su Lansdon E a carezzo solamente la retina Tempi, controllo e ripasso per Markovic Teodosic, alza la layup Per Vince Hunter Basket Champagne alla Palaleonesa Ricci, consegnato a Teodosic Dalla punta, si alza Teodosic Nel momento più importante In media d'appiccio da Teodosic Gli ha messo, gli ha appiccicato addosso Ancora una volta David Mossi, miglior difensore Certo esposito, accetta il cambio Kane, vuole punirlo, Teodosic Ma che giocatore, ma che campione